E' un soldato grande quanto un insetto. Il non plus ultra delle armi segrete. Se tutti avessero i poteri di un dio, sarebbe il caos. Allora come lo fermiamo? Conosco un ragazzo. Scott, ti sto osservando da un po'. Tu sei diverso. Tutti meritano un'occasione per riscattarsi. E tu? Assolutamente. I vecchi tempi dei furti con effrazione sono finiti. Che vuole che facciamo? Voglio che tu commetta un furto con effrazione. Logico. Sei pronto a diventare un eroe? L'armatura ha dei poteri. Devi imparare a controllarli. E loro sono le tue più grandi alleate. Sei carina. Quando sei rimpicciolito, hai una forza sovrumana. Sei come un proiettile. Impariamo come si dà un pugno. Mi insegni a dare un pugno? Fammi vedere come... Così si dà un pugno. Hai provato a nascondermi la tua armatura. Ora questo ti si rivolterà contro e distruggerà le persone a teccare. Scott, vattene da lì. Pensavi di poter fermare il futuro? Sei solo un ladro! No, io sono Ant-Man. Lo so, non è stata una mia idea. No, io sono Ant-Man.